non prendere di queste cose assurde non pensare che gay non è gay devi pensare dentro di te devi giocare per vincere se lo stiri, stiri e se fai la matrice, fai la matrice se ti ruba dentro, pigli massimiliano moda e palla con lui con chiaro, chiarezza, che io lunedì ti devo sentire di queste chiarezza dovete chiarire capito? amica io ti seguo da lunedì a venerdì anche in settimanale tipo martedì, giovedì, sabato e domenica qua due giorni che ti seguo ok, ti seguo la mattina e la sera in queste quattro settimane tranne due lunedì i due tranne due lunedì i venerdì capito? dai non pensare a queste cose e io non ti permetto queste cose, queste cose che io ci tengo brava ha detto bene io ammetto le scuse bravissima e anche e e e devo pensare io e Lucia ti seguiamo alla mattina alla sera ok? ciao Aldo vinci per noi forza Aldo forza Spagna forza Spagna e te e te forza Spagna e Aldo di Vesco forever